Stop! Il governatore Zaia sospende la moratoria sui vaccini. Nessuna marcia indietro, fanno sapere da Palazzo Balbi, ma una decisione ponderata visto la delicatezza del tema e considerando che sulla questione a breve si esprimerà il Consiglio di Stato. Si tratta di un decreto firmato e proposto in autonomia come giusto che sia dal dirigente e in altrettanta autonomia il dirigente ha proposto ed ha firmato la sospensione, quindi non la revoca del decreto ma la sospensione e chiedendo che ci sia un'espressione del Consiglio di Stato sul motivo del contendere ovvero sul fatto che esiste in legge una moratoria per i bimbi iscritti dai 0 ai 6 anni all'asilo, alla scuola per l'infanzia e quindi una moratoria che dura fino al 2019 oppure no, come sostiene nelle sue interpretazioni al governo. Zaia nega pressioni dal punto di vista politico. Questa cosa è meramente tecnica, non è una questione di critiche, è un fatto assolutamente tecnico e devo anche dire che l'organo deputato a dirimere questa partita è ovviamente Consiglio di Stato. Dall'altro devo anche dire che ho visto e letto un sacco di commenti inutili, prepsapochisti, generalisti che nulla hanno a che vedere col decreto che ha firmato il nostro dirigente che non era assolutamente un decreto contro i vaccini o quant'altro. A Bassano intanto il sindaco Poletto in giornata ha firmato una delibera di giunta sul tema in cui, oltre a ribadire il ruolo essenziale delle vaccinazioni nella difesa del singolo e della comunità nella protezione delle malattie infettive, invita tutti i cittadini, aventi potestà genitoriale, a seguire le indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche ed educative per garantire il regolare puntuale accesso ai percorsi scolastici. Tradotto, serve la certificazione dell'avvenuta vaccinazione, la prenotazione all'ULS di riferimento o l'autocertificazione, se no si rischia di restare fuori dalla scuola.